Bentornati in Conoscenza Generale e oggi parleremo di una novella di Luigi Pirandello, cioè Il treno affischiato. Facendo un riassunto di questa novella dobbiamo iniziare diciamo parlando del personaggio principale che era Belluca. Ma chi era questo Belluca? Era un umile impiegato di cui lui era molto oppresso dalla famiglia e da un lavoro ripetitivo che un giorno addirittura all'improvviso prende coscienza della propria atroce esistenza e si mette anche contro ad esempio il suo capo. Infatti quello che l'ha fatto accendere la sua fantasia è stato proprio il fischio notturno di un treno in corsa e quindi questa qui sta diciamo questa azione lo spinge ad agire e a ribellarsi. La sua famiglia era composta da due sorelle vedove con sette figli più altre tre donne vecchie e cieche, cioè la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Lui per mantenere queste persone doveva lavorare per forza fino a notte fonda. E così era talmente stanco perché lavorando si sa il lavoro stanca, quindi era talmente stanco che si coricava su un divano sgangherato. Ed è proprio lì che lui aveva udito una notte il fischio di un treno all'improvviso e che aveva cominciato a pensare ad un viaggio in luoghi lontani, esotici o in città conosciute in gioventù. Si rese conto che oltre a quella vita che lui aveva sempre avuto, in realtà c'era un mondo che lui aveva dimenticato e a lui questa cosa gli bastava. Ma come ha fatto però ad attaccare il suo capo ufficio? Quale scusa ha trovato? La risposta è semplice, ha fatto finta di essere pazzo. E quando in quel momento lui si è messo ad attaccare il capo, diceva sempre quella classica frase, il treno ha fischiato, il treno ha fischiato, tanto che poi alla fine i suoi colleghi l'hanno portato all'ospizio perché credevano che era un malato molto grave, affetto di infacialite e febbre cerebrale. E questo lo vedevano ogni volta che andavano a trovarlo che peggiorava sempre di più. E quindi questo qua era un modo per fuggire dalla sua vita complicata che aveva in quel momento, che lui non era così contento diciamo. Però poi, dopo un certo periodo di tempo, decide di riprendere la sua vita, in modo da ritornare di nuovo al suo lavoro in poche parole, fino a scusarsi con il suo capo ufficio, il quale così avrebbe concesso di tanto in tanto una fuga immaginaria in Siberia o in Congo, su proprio quel treno che fischiava. Ed ecco che anche l'assunto di questa novella finisce e poi più avanti inizieremo con una nuova puntata riguardo a un nuovo argomento e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e condividete questo video con più persone possibili. Ciao e alla prossima!